Oggi si è discusso, i sindacati hanno manifestato per il rinnovo del contratto nazionale di Federcasa che è il contratto che coinvolge la stragrande maggioranza delle aziende di tutto il paese che aderiscono appunto a Federcasa. Quello che hanno chiesto ad Acer di Ferrara è di farsi portatore di un messaggio a Federcasa affinché si chiuda al più presto il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori delle Acer e in particolare anche di Acer Ferrara. Il Presidente nei giorni scorsi ha avuto modo di partecipare, seppure con delega, all'Assemblea nazionale di Federcasa e a quell'Assemblea ha espresso la volontà di Acer Ferrara affinché questo rinnovo contrattuale si chiuda al più presto perché secondo il Presidente e secondo tutti noi ci potrebbero essere le condizioni a breve proprio per chiudere questo contratto quindi l'auspicio che possiamo formulare è quello che si chiuda al più presto.